Tanti temi che saranno affrontati dal rapporto regione Europa, regione comuni, il welfare, il lavoro dei piani di zona, le emergenze territoriali, la riforma del terzo settore, un autunno caldo per discutere e riflettere insieme, ragionando con la base, con chi opera tutti i giorni, con chi vive il quotidiano e vive le emergenze e le difficoltà, per dare spunti di riflessione. Devo anche dire che la madrina di questa settimana è Lola D'Arienzo, la nostra amica, che oramai è presente in tutte le nostre iniziative e avvierà proprio questa giornata con un video, quindi con una sua riflessione, che se mi consentite mi sembra una preghiera, a chi governa, ad avere attenzione, ad attenzionare molto le problematiche legate ai bisogni della gente.